Ue ue, buonasera cari massivi e massive, benvenuti per un nuovo streaming speciale di MMO.it Io sono Plinius e stasera continuiamo Last Epoch Ci facciamo un paio di orette di gioco su questo nuovo action RPG isometrico e can slash indie Di cui abbiamo già parlato molto in questi giorni Sviluppato da Eleven Tower Games E gioco che è appena uscito ufficialmente la scorsa settimana dopo 5 anni di Early Access Non so se ci sono anche i Twitch Drops, devo dire Datemi conferma perché fino all'altro giorno c'erano Non so se siano finiti o se ci siano ancora Magari adesso controllo Perché se ci sono i Twitch Drops sarebbe una bella cosa Lo aggiungo anche nel titolo Nel frattempo buonasera cari massivi e massive Benvenuti, benvenuti, come state? Allora aspettiamo un attimo Twitch Drops, vediamo se ci stanno Last Epoch Last Epoch Dal 29 febbraio al primo marzo No? Dal primo marzo Dal 2 marzo Dal 3 marzo No, mi sa che iniziano dopo i Mi sa che iniziano dopo i Domani Domani No, cioè dopo domani Il 29 febbraio mi sa che iniziano i Twitch Drops E vabbè, insomma Alla peggio giochiamo senza Drops e sti cazzi Allora Che si dice? Bella Bella ragazzi Buonasera Edopic Arcanthos Bd Silma Redones Stardust Carissimo Pli Oggi è mancata la mia gattina di 6 anni per Felw Mi dispiace tanto Silma Non so cosa sia la Felw Però Immagino che sia una malattia Mi spiace molto Guarda Ti mando un abbraccio Silma Mi dispiace tanto Guarda Un abbraccio Ah, la Felw è una malattia bastarda Ok, non la conosco Devo dire la verità Purtroppo Mi spiace Fatti coraggio Su con la vita Silma Dai In questi casi Purtroppo Qualsiasi cosa possa dire Sarebbe Sarebbe inutile Quindi niente Ti mando un abbraccio Buonasera anche Palla Buonasera ragazzi E immagino che Immagino che stai di mad Guarda E' un periodaccio anche per E' un periodaccio anche per me Silma E vi dico Vi dico soltanto che In questi giorni Ho scoperto Abbiamo Non ho scoperto Abbiamo E' stato diagnosticato Che un altro membro Della mia famiglia Ha l'Alzheimer Un altro Il terzo In questo momento Sono tre I membri Della mia famiglia Malati di Alzheimer Bene E quindi sono un periodaccio E Stai d'aste Vedo che anche tu Con la febbre Il mal di gola La tosse Raffreddore Eh si Vabbè Quello gira Purtroppo Anche perchè Piove Qui al nord Piemonte Lombardia Insomma Sta Sta piovendo Non siamo abituati Noi piemontesi Non siamo abituati Alla pioggia Qui Qui a Torino Di solito Non piove mai E quindi Fa una volta che piove Ci scombusso da tutti i piani E quindi si Siamo tutti un po' malaticci Anch'io stamattina Mi ho svegliato Che ero Stavo una medda Raffreddore Naso chiuso Poi mi sono preso Una spinaci E devo dire Che adesso sto meglio Quindi speriamo che duri Ehm Comunque Vi ringrazio Vi ringrazio Silma E Palla Vi ringrazio Eh si Redones Ma hai detto bene Minchia Cioè io capisco Io capisco Un Un Famigliaio malato di Alzheimer È già una tragedia Io capisco Due famigliai Di malati di Alzheimer È già una tragedia Ma Tre Famigliai Cioè tre parenti Strettissimi Tutti malati di Alzheimer Io l'unica cosa che posso dire Spero che Spero che la scienza La medicina Trovi Trovi un rimedio Nel giro Nel giro di Vent'anni Perché altrimenti Io sono il prossimo Ecco E quindi se mi troverete Se tra qualche anno Vedrete Plinius Rimbambito Che stream Da una casa di riposo Saprete perché Ecco Purtroppo Ti ringrazio Ragazzi Grazie Cantos Io lavoro Nelle scuole Con i bambini Ci sta Ci sono problemi Ben peggiori Eh Peggiori Dici Dell'Alzheimer O Ti riferisci ad altro Diciamo Vabbè Non voglio fare una classifica Di cosa è meglio E cosa è peggio Perché Ovviamente Sono tutte Sono tutte brutte cose Le malattie Però È tosta Vi assicuro Che è una cosa Che ti stravolge la vita È una cosa Che ti stravolge la vita Soprattutto quando riguarda Parenti strettissimi Ecco Perché un conto È sapere Che magari C'hai un 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 bisnonno Un prozio Di secondo grado Che è malato Certo Dispiace Dispiace anche lì Però È un conto L'altro conto Invece È avere dei parenti Strettissimi Malati Comunque Ah Dell'influenza Sì sì Capisco Stardust Poi lo sai Ne abbiamo già parlato Stardust Basta è un amico Quindi Quindi Ne abbiamo già parlato Niente ragazzi Non volevo deprimervi Scusate Giusto così Per Giusto per spiegare Anche a Silma Che purtroppo È un periodaccio brutto Anche per me E speriamo che le cose Speriamo che le cose Migliorino nei prossimi mesi Un abbraccio A chiunque stia male In questo momento E dai ragazzi Avanti Giochiamo un po' Perché se no Qua c'è da deprimersi La vita va avanti I videogiochi Vanno avanti Soprattutto I videogiochi Non si fermano mai C'è sempre tantissima Roba nuova Che esce Tantissima roba Da giocare Grazie Grazie Bampo Un abbraccio Anche a voi Avanti Avanti con coraggio Ma soprattutto Stardust Avanti con Last Epoch Che ci facciamo Un paio d'ore Poi appunto Dovrò staccare Però Così Nel frattempo Chiacchieriamo Cosa volevo dire Niente Mi raccomando Ragazzi Ricordatevi Di scrivervi Ah ecco Cosa volevo dire Che no Anzitutto Ci tengo A rivolgere A tutti quanti A tutti i membri Della nostra community Un ringraziamento Speciale Perché Abbiamo Abbiamo finito Abbiamo realizzato Dov'è qui Abbiamo realizzato Sono tutto scordinato Vabbè comunque Abbiamo realizzato L'obiettivo Per supportare Aiuta a pagare L'hosting Di MMO.it Bene Quindi possiamo Confirmare Che MMO.it Non chiude Quest'anno Almeno Al 2024 Ce lo sia scampato MMO.it Non chiude Quindi ovviamente Grazie Grazie di cuore E mi raccomando Se ancora non l'avete fatto Anzi Adesso facciamo Una bella cosa In diretta In diretta Tolgo il Tolgo Un attimo Ecco Tolgo l'obiettivo Obiettivo Completato Tra l'altro Con 32 giorni Di anticipo Quindi Davvero Grazie mille Ragazzi di cuore Termina obiettivo Oh Evviva Evviva Così abbiamo anche Un po' di spazio libero Adesso Non è più occupato Perfetto ragazzi Che dire Io vi ricordo Se ancora non l'avete fatto Ovviamente Di iscrivervi al canale Di followerci qua su Twitch E soprattutto Di abbonarvi Nessuno vi chiederà mai Di donare Perché la donazione Ovviamente È sempre una scelta Una scelta libera E personale Però l'abbonamento Si Quello lo chiediamo Anche per poter vedere Tutti i nostri stream In senza pubblicità Quindi abbonatevi Supportateci E sosteneteci E tutto quanto Ora Solleviamo un po' La serata Con una bella Maratona di Starfield Bene E poi è la volta Che mi Che mi suicido Per la depressione No vabbè Scherzi a parte E Giochiamo a cose belle Dai Giochiamo a un po' di cose belle Che qui ce ne C'è il business In questi tempi duri Ce n'è Ce n'è un gran bisogno Avanti ragazzi Dai Allora Anzitutto Io vi ricordo Che abbiamo pubblicato Una news Con tutti i dettagli Su mmo.it Ovviamente Abbiamo pubblicato Una news Dedicata Al lancio Del 21 febbraio Poi Nella giornata Di ieri Il buon Vincenzo Che salutiamo Il nostro Senior editor Ha pubblicato Un articolo Anche dedicato Alla situazione Attuale Di Last Epo Che dopo il lancio Ha avuto un grande successo Questo gioco Superiore alle aspettative Degli stessi sviluppatori Ha superato Un picco Di 264 Utenti Connessi Simultaneamente Su Steam E quindi Sono stati I soliti Prevedibili Problemi Di server È crashato tutto Non si riusciva A giocare online Eccetera Eccetera Adesso la situazione Sembra essere Sensibilmente Migliorata E in questi giorni Si dovrebbe riuscire A giocare Senza problemi Situazione Ancora ovviamente In divenire Però comunque Dovrebbe essere Molto meglio Fatemi vedere Sono per curiosità Vediamo un po' Le recensioni Su Steam Se Come dire Sono un po' Allora in questo momento La media Delle recensioni Su Steam Si aggira Si attesta Sul 71% Delle valutazioni Positive Ovviamente Sono un po' Calate A causa Appunto Dei problemi Di connettività I server Quindi sono scesi Comunque poi Appena un attimo Ci lascio anch'io Una recensione positiva Perché Non ritengo Sia giusto Affossare questo gioco Soltanto per Dei problemi I server Dei primi giorni Quindi poi Appena Appena un attimo Lascio anch'io Una valutazione positiva Ma bando alle ciance Eccoci su Last Epoch Allora io vorrei andare Vi confesso Io stasera vorrei andare Un po' spedito Si lo so che ci sono Dei punti che mi avanzano Però se adesso Inizio a leggere qui Leggere lì Le skill Le spell Eccetera eccetera Poi non vado più avanti Allora Andiamo un po' spediti Se siete d'accordo Quindi Ovviamente Datemi un feedback Fatemi sapere Se l'audio è troppo alto O troppo basso Aspettate che metto Ecco così Doveste vedere meglio Ok Avanti Dai Che dire ragazzi Voi state giocando Alla Stipoc Last Refuge Outskills Ruined Era Ruined Ira Ecco Sblocco Il Teleport Dicevo State giocando Anche voi Alla Stipoc Vi piace Non vi piace E' molto interessante Come discorso Perché ad esempio Sul nostro Sulla nostra pagina Facebook Ci sono molti A cui il gioco sta piacendo E dicono Si mi piace Sicuramente meglio Di Diablo 4 Eccetera eccetera E poi invece Ci sono altri Che dicono No Preferisco Diablo 4 Perché Non mi piace Questa cosa Insomma diciamo che C'è un 50-50 Ah grande Redone Si sta giocando Pochi adesso Bravo Redone Grazie per il feedback Audio E palla Audio e video Ovviamente Perfetto Avanti Si Fine Gasman Head North East Towards the Council Chambers Bene Allora c'è un po' di nuove Abilità tra l'altro Che voglio provare subito Tra cui questo Warcry Che stunna i nemici Sembra molto forte Ovviamente Ovviamente da tirare All'inizio della fight Questo Warcry Poi dopo mi leggo Tutte le Vabbè Vabbè Poi me la guardo Con calma Chi è? Visto che non si è sentito Lo ridirò più forte Forza Druidi Scusa Ok ok Io però Non sto Non sto facendo Il rune master E comunque Non sto seguendo Le build in generale Anche perché Dicono che questo gioco È tanto bello Perché ti permette Di Ti permette Di crearti Una tua build Senza bisogno Senza dover Per forza Seguire continuamente Le guide su internet Come ad esempio Per Path of Exile O Diablo 4 Quindi Devo dire Sto cercando un po' Di andare avanti Così Sto andando un po' Ispirazione Però Però grazie per il link Comunque sì In termini di Theory crafting E di build Diversity Questo gioco È sicuramente È fatto molto bene Cioè come action RPG Non gli si può dire Non gli si può dire Un cazzo È veramente Flessibile Permette una diversità Di build Praticamente Infinita Quindi Era destino Esatto Stardust L'ho ricominciato Il 21 E era da un po' Che non lo giocavo Eh pensa che io La prima volta Che ci gioco Bampo Ho aspettato il day one Non volevo Non volevo Farmi traviare Dagli eliaxess Niente Quello Non è da È una scenetta Io ho un livello 80 E un 25 Mi sta piacendo Decisamente Ho una intenzione Di tornare su diablo 4 A breve Bene Mangiacadavi Quindi tu parteggi Team Lastipoc Wewe Buonasera Max VFR Che si è anche abbonato Per 13 mesi Grandissimo Vero massivo Postumano Grazie mille di cuore Max Avanti Allora Sì Sì Eccoli che arrivano Subito Warcry Li stunno E poi via Ovviamente la mia build Fa sì Cioè al momento Io non ho neanche una build Cioè sono a livelli Talmente bassi Che in questo momento Sto facendo la campagna E sto cercando Un po' di sbloccare Nuove abilità Nuovi Nuovo loot Nuovi potenziamenti Cioè Sono ancora in early game Ragazzi Quindi ancora presto Vorrei parlare di build Min maxing Meta Queste cose qui Eccetera eccetera Ma Sembra un gioco Molto accattivante Come dice Stardust Sì sono d'accordo E' fatto molto bene Certo vi devono piacere Gli hack and slash Però E' fatto molto bene Quello si Da un punto Soprattutto da un punto di vista Meccanico E sistemico Poi Io di questo Ne parlavo anche ieri Durante il salotto E gli MMO Col buon Askez A livello Estetico E narrativo Adesso questo lo piglia Scena scriptata Va bene Dicevo a livello estetico E narrativo Diablo 4 è superiore Prodotto AAA Però Se parliamo a livello Meccanico E sistemico Questo gioco Sicuramente Madonna ci muoio Non gli si può dire un cazzo Soprattutto Se consideriamo Che è un indie Ma però Devi morire Ragazzo mio Madonna Santa Non muoio E' tosto E' tosto Mi piace questo fatto Che comunque i nemici Sono tosti No Non è semplicemente Un massacro Di mob Brainless No Che spegni il cervello E ammazzi tutto Devi Devi fare attenzione Bisogna fare Attenzione Increase Fire Damage Va bene Dai Graficamente Pensavo peggio A livello visivo E' comunque piacevole Sì l'hanno migliorato Con l'1.0 Stardust In Eliaxess Non era Era molto inferiore Però gli hanno fatto una bella Gli hanno dato una bella passata grafica E devo dire che sono stati anche molto intelligenti Gli sviluppatori Perché Noi possiamo stare qui a parlarne Quanto ne volete Ma la verità è che comunque La gente guarda la grafica Ragazzi Guarda anche la grafica Cioè Oddio Diciamo la verità Il grande pubblico Cioè i giocatori casual Guardano Soprattutto la grafica In un videogioco Per quanto sia brutto da dire Purtroppo E sapete come la pensiamo Io e Askerzor Sull'argomento Però Ripeto Il grande pubblico I giocatori casual Guardano come prima cosa La grafica In un videogioco Poi Il resto E quindi Comunque è stata una mossa intelligente Bustare La grafica Con Il lancio ufficiale Della versione 1.0 E la madò Io sono a livello 60 Ora con un pg E ne ha dato paura Eh si si redones Ma ci sono Abbiamo degli Nella nostra community Abbiamo degli utenti Che ci hanno ne ha dato Un bel po' Un bel po' Sulla stipo Tra cui lo stesso BD Silma Che sappiamo essere Un grande esperto E veterano Di questo gioco Senza andare dietro Al meta Si arriva a finire La campagna E arrivare tranquillamente A 60 Poi si vede Che direzione Prende Tra drop Migliore E crafting Si Allora di qua Devo andare Per Allora Si Non ho capito benissimo Quale è questa Di qua E quale invece è questa Però Vabbè proseguiamo Ecco Io devo Devo decidere Quale Quale specializzazione Farò Vabbè lo sapete già Che il mio cuore Batte per il druido Però Però non è detto Nel senso Potrei Comunque io l'audio Lo sento un po' basso Vi dico la verità Dicevo Il mio cuore Batte per il druido Però Oh potrei anche Cambiare idea Eh Il Il Questo è il Primalist Che tipo base È il Primalist Può scegliere Tra Appunto Druido Beastmaster E sciamano Sciamano è quello che Forse mi interessa Un po' meno Mi ispira un po' meno Vi dico la verità Sono indeciso Tra beastmaster E druid Credo che alla fine Farò il druido Che Insomma È sempre il primo Amore Però Però Se avete dei consigli Fatemi sapere Io devo dire Nel sentito Parlare molto bene Anche online Su reddit Su youtube Tutti Parlano bene Delle classi Le classi Questo gioco Sembra Delle classi Veramente Fighe E lo stesso Primalist Sembra una Delle classi Più belle Del gioco Il che ovviamente Mi fa Mi fa solo Che piacere Il primo Megaboss Mi sta facendo Sclerare un filo Cavoli Redones Vedremo Vedremo Quando ci arrivo Druido Vai dove ti porta Il cuore Quello assolutamente Sta Però anche Il beast master Dico la verità È una figata Il beast master C'è in diablo 2 Il cosiddetto Druido Con lo zoo Io su diablo 2 Mi avevo fatto il druido Che si poetava dietro Tutto lo zoo Di creaturine E quello è letteralmente Il beast master Quindi Ok Un sacco di loot Qua Ah ok Con lui ci ho parlato Devo trovare Elder Moss Ben Allora Mamma mia Quanta roba Alla fine Mi sa che alla fine Farò un Farò un altro Loot filter In cui Gli dirò Nascondimi Gli oggetti azzurri Perché Sono pieno Già adesso Di oggetti azzurri Comunque questo gioco Ti riempie di loot È veramente Una loot pignata Come si dice In gergo Bene Mi dispiace Ti capisco Eh sì sì Assolutamente Un abbraccio Per BD Silma Ne parlavamo Prima Per i odaccio Un po' per tutti Ma speriamo Che le cose Migliorino Minchina Minchina Veramente Io ho già finito Spazio nell'inventario Su Diablo 4 Avrei poi Talato E sei andato A vendere tutto Ma siccome qui Non ho la stessa Esperienza Che ho su Diablo Facciamo semplicemente Che gli oggetti azzurri Inizio a Inizio a Buttarle Così almeno Vado anche più Così vado anche più veloce E voi siete più contenti Ok Prendiamo soltanto I gialli E metto Transfer materials Sword titans Perfetto Io ho deciso Di non averne più Di cosa Di oggetti Eh ma mi sa Che anch'io Adesso faccio Un bel loot filter In cui gli dico Nascondimi Gli azzurri Gialli Ho detto Nascondimi Gli oggetti grigi Perché vabbè I grigi Sono la spazzatura Però Mo li dico Non voglio vedere più niente Gli dico Ok Ok Ah di gatti Ok ok Capisco Eh silma Molti gatti Quanti gatti hai silma Due Tre Grande 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 stimatoi Di gatti Il buon bidi silma Ma Lo sono Lo sono anch'io Ragazzi Anch'io Adoro i gatti Ne ho avuto Ho avuto una gatta Che è durata 18 anni E adesso C'ho Un gattino Avevo solo Lei sei anni Ah cavoli Mi dispiace Silma Mi dispiace molto Vabbè Tu hai fatto quello che potevi Non ti rimproverare Ne sei stato vicino Fino all'ultimo Su Help Ok ci siamo E lui Eccolo Elder Elza Devo anche trovare però Elder Mosben Che mi sa che sta da un'altra parte Però Venite qua Venite qua Bam Mamma Eh ho capito Ne è arrivita eh Questo void penance Bisogna Bisogna Mi aiutare gli attacchi Con questa lingua Bello bavoso Potremmo fare più danni Questo O questo Questo L'npc Che ripete sempre Le stesse frasi A go go Va bene Eh ma in realtà Quando mi andare nel lab Mi sono accolto Che c'ho un'altra quest Da fare Quindi Quindi io andrei a fare Poi Allora vabbè Gli amuleti sono piccoli Li prendo Andrei a fare Poi l'altra side quest Cioè Find Elder Mosben Non ti muovere Non ti muovere Elder Elza La felve è una bastarda Guarda io Non so cosa sia Quindi non Non immagino che sia Una malattia brutta Purtroppo Capita È brutto Ah è la leucemia felina Ok Ok ho capito Grazie Vi ringrazio per l'informazione Vi ringrazio per l'informazione E immagino che non ci si possa fare nulla Cioè se capita capita Non è una questione Ah qui è un vicolo cieco Mannaggia No Ho capito Eh brutta storia Brutta storia Allora Aspetta ma gli anelli posso cambiare Ma certo Almeno uno Allora uno mi dà Più 14 Dodge Raid Vabbè uguali Sono Solo che questo è azzurro E questo no Allora ci mettiamo Questo qua Non puoi farci nulla Brutta storia Brutta storia Brutta storia Mi dispiace Allora cos'è questo? Sì ho nuove abilità Poi le Poi le livello Adesso andiamo un po' spediti Che mi son perso la side quest Evacuation Questa di qua Questa di qua Un altro vicolo cieco Dovrebbe essere di qua Molto buio qua il gioco Davvero molto molto cupo Perché ci troviamo in questa Ruined era Cioè l'epoca rovinata L'apocalisse Sostanzialmente La fine del mondo La fine dell'universo Come lo conosciamo Spero che non sia tutto così Ecco Uh avanti Vado velocissimo Dai 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 Brum Poi livellato Perfetto Uh ma lì c'è la roba bella Lì c'è della roba Se non mi ammazzano Eh però devi morire eh Fammi tutti Buzzo Fatemi vedere Questi boots Uh Ah troppato Leggendario Moaning Frost Spread ice with every step Like frost before sunrise Ok mi ricorda Mi ricorda Pato Vexile Questa cosa Mi ricordo che Pato Vexile Aveva i leggendari Con Con questa descrizione Della lore Bello bello Tra l'altro prima o poi Devo tornarci su Pato Vexile Mamma mia Il frattempo sarà cambiato Tutto Io non ci gioco da Quasi Sarà otto anni Che non gioco A Poe Ci avevo giocato all'epoca Quando era uscito Comunque Beh direi che me li metto di fisso Che figata Bene bene Questa cosa devo dire che un po' mi gasa Eh Avere un bel leggendario Bene bene Ehm Devo dire che si livella velocemente Sì sì assolutamente Silma Ho avuto E ho tanti cani e gatti Ogni volta che muoiono Un trauma Mai la vita Ho reagito sempre prendendo altri cani E altri gatti Eh capisco Salmarone Che sì È quello che hanno fatto anche i miei genitori Quando è mancata la La nostra vecchia gatta Che avevamo Non ci puoi fare nulla O il gatto guarisce da solo E diventa immune O purtroppo muore Ha un altissimo testo di mortalità E di trasmissibilità Morning Frost È la sottomarca di Frost Moon Esatto Padre Peggola Anch'io voglio tornarci su poi Ma credo che aspetterò il 2 Eh Allora il 2 sicuramente Però magari Prima che è scappato Vexel 2 Magari ci facciamo Magari ce lo facciamo Un Un ritorno Facciamo un road To Pato Vexel 2 Così come l'anno scorso C'è stato il road To Diablo 4 Quest'anno potremmo fare Il road to Pato Vexel 2 Se vi interessa Ovviamente Che ne dite Vi piacerebbe l'idea Di un road to Pato Vexel 2 Magari in estate Permesso che io Non sono assolutamente Esperto di Pato Vexel Allora qui almeno Abbiamo riunito la mappa Sì perché qui c'ero prima Perfetto Mappa interconnessa Mi piace Mi piace Io ci sto Diablo 4 sta rimando Nel game pass Esatto Salmanone Abbiamo parlato Nello scorso Salotto Il 28 marzo Entra su game pass Volevo dire Ah sì Vi ricordo che A giugno Inizierà La closet beta Di Pato Vexel 2 Però solo la closet beta Quindi Prima che il gioco Esca ufficialmente Secondo me Passeranno ancora Un bel po' di mesi E quindi potrebbe Esserci il tempo Per fare una road To Pato Vexel 2 Anche perché Pato Vexel Comunque aveva una campagna Che non era male Perché All'inizio Io mi ricordo Ci avevo giocato in beta E all'inizio Era incompleta Infatti io non l'avevo mai finita La campagna di Poe Poi però Quando il gioco è uscito Ufficialmente L'hanno completata La campagna Di Pato Vexel E io però Avevo già smesso di giocare Quindi cavoli Sarebbe bello Una volta Di prendere in mano Pato Vexel 1 E di giocarsi La campagna Stavolta completa Ai miei tempi C'erano credo Quattro atti Sì O quattro O cinque atti Non di più Non di più Ovviamente tutti insieme Ma certo Stardust Bella lunga la campagna Di Poe Eh lo so Lo so Perché so che si ripete Cioè so che tu La campagna di Poe La finisci Una volta E poi si ripete Cioè tipo Gli atti si ripetono A me interesserebbe Finirla una volta Ovviamente E poi rifare tutto da capo Non so se Non so se mi interessa Comunque buonasera Faiti TV Che la tocca piano E dice Poi rimane il migliore Action RPG sul mercato Sì in questo momento È probabilmente il migliore Cioè c'è poco da fare Ha una qualità Impressionante A maggior ragione Se consideriamo Che è un gioco Free to play E ha una Ha una profondità E una complessità Nella personalizzazione Della build Che è completamente Fuori di testa Cioè è un gioco Folle Path of Exile Devo dire la verità A tratti Forse persino Fin troppo A tratti Persino Esagerato Infatti Io sono uno di quelli Che sperano Che Path of Exile 2 Possa Non dico Non dico Semplificare O banalizzare il gioco Però renderlo Un po' più accessibile Però conoscendo Quelli di Green Ding Gear Games Che sono dei pazzi Furiosi Credo che anche Path of Exile 2 Sarà Sarà estremamente Complesso E complicato Credo Ecco comunque L'ho trovato Elden Moss Ben Che si nascondeva Mannaggia te Bene Bene Allora direi che possiamo andare a consegnare questa quest Che di fatto è completa E da quella qua Di là Miglioriamo un po' la covete of life Delle build Giusto quello Beh ma con Path of Exile 2 Se hai visto i video gameplay Cambia praticamente tutto Fate Cioè È praticamente una evoluzione Rispetto al primo Path of Exile Infatti non a caso Saranno due giochi separati Perché veramente Allora Cioè I sviluppatori di Grinding Gear Games Hanno partiti Con l'idea Di fare Di realizzare un gioco Che sarebbe stato integrato Col primo capitolo Quindi un gioco Dove essere molto simile Inizialmente Path of Exile 2 Poi Sono fatti prendere la mano E hanno creato una roba Completamente diversa Da Path of Exile 2 Ed è diventato un gioco a se stante Cosa che io devo dire Condivido Nel senso Io ne ho d'accordo Con l'idea Di Di Integrare Path of Exile 2 Cioè O meglio Di integrare Il primo capitolo All'interno di Path of Exile 2 Io ne ho d'accordo Perché C'è un po' Il rischio di fare Come Overwatch 2 Avete presente Che Overwatch 2 È stato un disastro Perché Ha Inglobato Il primo gioco E così facendo L'ha cancellato Cioè Il primo Overwatch Se uno volesse giocare Non è più Non è più fruibile Non è più giocabile Non esiste più Overwatch 1 Rip E quindi Secondo me C'è il rischio Che potesse succedere Una cosa simile Con Allora di qua Potremmo finire Di esplorare la mappa C'è il rischio Che potesse succedere Una cosa simile Con Con Path of Exile 2 Però per fortuna Hanno scelto Di renderli Due giochi Separati E ripeto È una scelta Che io apprezzo E condivido Oh perfetto Così abbiamo anche Collegato la mappa Bene bene Preferite L'overlay map O la minimappa In alto a destra Devo dire Che io Forse Io di solito Preferisco Cioè Io da fan Di Diablo 2 Adoro Ovviamente L'idea Dell'overlay map Però sapete Che forse In questo gioco Preferisco La minimappa In alto a destra Perché Per come È gestita L'interfaccia L'overlay map Cioè questa qui Che state vedendo È un Mi Mi confonde Cioè Mi copre La visuale Sul mio pg Ah no Ma perché sono un coglione Io Perché ho aumentato Al massimo L'opacità Ho aumentato Al massimo L'opacità Esatto Ecco Eh infatti Infatti Potrei mettere Tipo Fermo Fermo Così Tipo Al minimo Sì no Perché effettivamente Così è troppo Potrei metterla Appena sfumata Non male Non male Però Questo La stepo Che è un buon Aspettando Patovex Il 2 Sì sì No no È molto bello È molto bello Allora Va bene Dai su Che c'ho da fare Sti mob Rotto le balle Vado di fretta Io su poi Mi sono divertito Anche senza seguire Build Però ammetto Che per alcuni tratti È Inutilmente Complicato Così va Così va un po' Meglio Sì sì Così è Così ci sta Buonasera Era bello No il negromante Non l'ho provato Però ne ho sentito Parlai molto bene Quindi non ho dubbi Sul fatto che È una classe molto È una classe molto Bella Sia il leech Cioè tutte le specializzazioni C'è il leech C'è il warlock C'è appunto Il negromante E che io sappia È molto forte Ho visto un po' Di video Un po' Di build Su internet Ed è tanta roba Quindi Direi che puoi andare Puoi andare sul sicuro Tant'è che io stesso Ho indeciso Se farmi un necro O un druido Alla fine Vabbè Come primo pg Ho scelto il druido Perché lo sapete Che il mio cuore Batte per il druido Però Però Se mi faccio una seconda run So già che classe fare Ma esattamente come su diablo Stessa identica cosa Su diablo 4 Mi sono fatto il druido Come me in pg Poi mi sono fatto anche un necro Stavo pensando di prenderlo Lo consigli Allora Sì Era bello Lo consiglio Se Se sei un appassionato Di hack and slash E stai Hai voglia di giocare Un nuovo Un nuovo hack and slash Cioè un nuovo action rpg Isometrico Diablo like Per intenderci Se Ti piacciono Questo genere di giochi E stai cercando Un gioco di questo genere Magari in attesa Di path of exile 2 Allora sì Lo consiglio Un bel gioco E se l'inglese Non è un problema Ovviamente Allora A me questo overlay Non piace Lo uso di rado E poi nelle mappe luminose Non si vede Sì hai ragione Max Sicuramente nelle mappe luminose Può rappresentare un problema Però in questo momento Ci troviamo in una mappa Completamente buia Immersa nell'oscurità E quindi tutto sommato Si vede bene E Questo scudo Va bene Io ho provato Necro pet Poco prima del day one Divertente Il golem È una goduria Immagina Immaginavo Immaginavo Allora di qua Devo andare In questo gioco Ci sono più e più Build valide Assolutamente Cioè questo gioco Ha una flessibilità E una diversità Di build Pazzesca Ragazzi Potete veramente Fare la qualunque A me piace troppo Creare le oide di mob Eh bravo Stardust Vedo che Vedo che ci capiamo Vedo che ci capiamo Anche a me Ave l'esercito Di minion Che fanno tutto Che fanno tutto Loro Mi fa godere E si può fare Ho visto un video Su youtube Di un ragazzo Che Si era fatto Questa build Del necro Minion master Che aveva L'esercito Di sgherri E lui non faceva niente Lui bastava Che semplicemente Cliccasse Lui giocava Con una mano sola Bastava che Cliccasse col mouse Per Spostarsi Però Tutte le abilità Non le dovevo usare Perché facevano Tutti i mob C'era un esercito Di tipo 20 sgherri E facevano tutto Loro Dove passavano Dove passavano Gli sgherri Facevano terra bruciata Bellissimo Meraviglioso Assolutamente Meraviglioso Quindi Quindi si Ci sta Allora Devo Devo trovare Un passaggio Però Take the elevator To the council chamber Aspetta Devo prendere L'ascensore Ma è quello? Fammi capire No Non è quella Di qua Non si passa Adesso Cerco di leggere Ragazzi Buonasera Alfre Benvenuto Un aiuto Quando compaiono gli anelli Che sono due passi Che sono due Come passi Da uno all'altro Ah Ho capito Cioè Sì Ho capito Cos'intendi Guarda Sinceramente Non lo so Io lo faccio Poi manualmente Ho capito Cos'intendi dire Cioè quando In questo momento Purtroppo Non ho un terzo anello Se no Sì Cioè mettiamo Che io abbia un anello E voglio fare Il compason Non col primo Ma col secondo anello Non lo so Come si fa Io faccio La vecchia maniera E ci passo Il mouse sopra Però Vediamo se i nostri utenti Possono aiutare Eh Silma Vabbè Se Silma lo sa Risponderà Altrimenti Non è Non è un problema Diablo 4 Fai con alto Control Qui non saprei Esatto Luca Tex Stavo pensando Diablo 4 Però Qui non so Se usa gli stessi comandi Diablo 4 Ah è di qua Che devo andare Perfetto Va bene The council chambers E si va Mi sa che non si può Ah Un piccolo Diciamo una piccola mancanza Di quality of life Vabbè Magari lo metteranno Magari Lo metteranno Allora Il tooltip Non lo dice Io ancora Non l'ho capito Ma mi sa Che non si può Allora Vecchia scuola Passi sopra Il mouse Esatto Ho un paio Di amici Che non sentivo Da un po' Vogliono giocare Alla step Mi sa Che vi lascio E vai Max Divertiti Divertiti E saluta Agli amici E digli Di passare Su mmo.it Allora Siamo arrivati All'account Council chambers Ah questo è l'hub Questo è di fatto L'hub principale Del gioco Ok Infatti Prima cosa Mi sblocco Il teleport Perfetto E Capitan le ora Benissimo Passiva gold experience Vai Grazie Grazie Esatto Buona serata E buon divertimento No non si può Se ne lamentavano Già da tempo Ah esatto Credo che ne confronti Solo uno dei due No allora La peggio Se vi fa una furbata Cambia anello Cioè fai così E in questo modo Lui automaticamente Ti compara Col primo anello Cioè con questo qui E quindi Cioè tu prima Guardi C'hai un anello Fai il comparison Col primo anello Poi switchi E così lui tira il comparison Con l'altro anello No Penso Credo Ecco Proverò a fare sponsorship Buona continuazione a tutti Bravo Max Grande Buona serata Alla prossima Era Puoi capire se ero incoglionito io A giusteranno No no Non sei l'incoglionito Alfre Ah si E evidentemente È un afficio che manca È un afficio che manca Allora no A me serve Un vendor Serve un vendor Ragazzi miei Allora Consegniamola questa Comunque Nella main quest È interamente Doppiata in inglese I see We have relied on the power of our shard for ages Always assuming the others were lost And it seems only tapping into a fraction of its potential You were brought forward in time by the shard If you want to return to your time We will need to use them together If the void does not consume us first Of course The void fell upon our world hundreds of years ago All of us All consuming darkness Spread across the surface And drove us into these caves The last city of humanity Last refuge Ok quindi Last refuge È il nome del lab Now that the void Has finally found us It will reach this place And snuff us out Elder Panion Is an expert At using the shard He can weaponize Against the void I have received word That his study Is under attack We may be out of time Vabbè andiamo datti al punto Everyone here Is either too old Or too injured To go warm Elder Panion Except For you Ah certo Chi lo ebbe mai detto Please Find him And have him return here Before something terrible happens Va bene Please Take these idols With you An idol of Logon To guard you against chaos And one of a terror To guide you home Wherever that May be Bene Grazie Ringraziamo il vecchio Gasparri Ecco Elder Gaspar Che per noi Nei nostri cuoio È diventato il vecchio L'onorevole Gasparri Grazie grazie Allora Abbiamo degli Abbiamo sbloccato degli idoli E questa è la nuova meccanica del gioco Gli idoli Vedete Allora questa Meccanica molto interessante Equipping idols Madonna 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 che fastidio Perché Ecco Equipping idols Idols will grant you a character bonus When equipping Dedicated In the dedicated Idol Contained Located Here Unlocking Idol Container Space You may unlock Addition You may unlock additional idol Container Space By completing main story Inside the quest Allora Questa è una meccanica Come dicevo Molto intrigante Perché Perché sostanzialmente Questi sono I totem di Diablo 2 Chi di voi Ha giocato a Diablo 2 Si ricorda che in Diablo 2 Nell'inventario Potevi trovare Dei totem Che sostanzialmente Ti davano delle abilità passive Solo che Qual è la differenza? Che in Diablo 2 Questi totem Li dovevi obbligatoriamente Tenere nell'inventario E quindi Ricevevi dei bonus Al tuo pg Ma ti occupavano Spazio Nell'inventario E quindi ovviamente Era un problema Path of Exile Che è un gioco moderno E molto intelligente Ha mantenuto Questa meccanica Dei totem Di Diablo 2 Qui chiamati Idoli Ma Ha messo uno slot apposito Quindi c'è Un Appunto Un posto Appositamente Dedicato In questo modo Non ti prendono spazio Nell'inventario E in questo momento Abbiamo sbloccato I miei due idoli Che sono Assassin's Tooth Lagonia Nidolo of Embers E Warden Zambul Eterran Nidolo of Iron Allora questo mi dà Più 13% Critical Strike Chance E Fire Resistance Questa aumenta La durata E gli stun Più Physical Damage E più Minion Physical Damage Devo dire E' una bella lotta E' una bella lotta Allora Questo fa più danni Di base Questo Questo però E' anche utile Per i miei minion Quindi Iniziamo con Questo Vedete al momento Non posso metterli Entrambi Purtroppo Perché bisogna Fare il Tetris In questi slot Al momento Io ho sbloccato Solo questi E quindi purtroppo Ne posso scegliere Solo uno Andando avanti Nella storia Finisci per sbloccare Tutti questi slot E in questo modo Puoi mettere Molti più idoli Addirittura Ne puoi mettere Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Forse ce ne stanno Addirittura Sette Sì Allora da quello Che ho capito Un conto E se fai Respect Allora tu quando gli dici Respect puoi scegliere Tra Remove skill points E Despecialize skill Che sono cose diverse Perché se fai Remove skill points Lui ti dice Ogni punto che rimuovi Ridurrà il livello Della skill Di uno Sei sotto il tuo livello Minimo Invece se fai Despecialize skill Questo rimuoverà Tutti gli skill points E l'esperienza Quindi dovrai Reimparare L'abilità Ok Quindi questo è più drastico Questo invece Gli permette di rimuovere Singoli skill points Questo è quanto Io tra l'altro Ho un bel po' Di punti Non spesi Allora Fui lip si reset When you kill an enemy Ecco Fui lip always Critical strikes Non male anche questo Questo cura i minion Ah questo fa saltare Anche i Gli animali Insieme a me E questo è molto divertente Devo dire È molto divertente Questo Cioè vuol dire Che saltiamo tutti In secondo salto io Saltano anche i minion Molto divertente Questi quattro punti Potrei spenderli Tutti qui Volendo Altrimenti Questo Aggiunge Storm damage Cioè danno da fulmine Allora Aspettiamo ancora Voglio arrivare Fin qui Aspect of the mantis Mi servono 5 punti Sì ma Elastipoc Non può Esatto Ho sentito Non lo so Non lo so ma Non credo Beh oddio Se Se BD Silma Dice che Non gli risulta Mi fido di BD Silma Allora ecco Warcry Invece Come la specializziamo Io ero invulnerable Ecco Questa è una figata Ad esempio Cioè Banalmente Molto banalmente Sono invulnerabile Per un secondo Dopo aver usato Warcry Non Non mi sembra Niente male Sì Mettiamoci Juggernaut Ah e mi E mi ridà anche Vita Beh beh Figata Figata Quindi diventa anche Una skill Che cura In qualche modo You gain the berserk Buff for one second When you use Warcry Granting you Additional melee damage Beh per un secondo Però non è tanto Cioè un secondo Cazzo È pochissimo No allora Mettiamoci più Questa che mi cura Che mi sembra Un'ottima cosa Perfetto Dato che Dato che in questo gioco I mob Menano Menano Come fabbri Warcry Also restores Allie health For the same amount From breath of the terra Ok Warcry Now cleanses Negative ailments On you Oppure You You now You can now Cast maelstrom When you use Warcry Eh quindi È un'abilità È un'altra Abilità Che sblocco Come whirlpool Maelstrom Vediamo un po' Le altre Capiva Super strike Ok vediamo Invece Ecco Le passive Allora Queste Sono le specializzazioni Che non ho ancora Sbloccato Si sbloccano Seguendo la storia Uh Survival of the pack Vabbè Survival of the pack Questa l'hanno presa Direttamente da Wow Cioè su World of Warcraft C'è un Giuro che c'è un talento Che si chiama letteralmente Survival of the pack O forse Survival of the fittest Si chiama Su Wow Comunque Mamma mia Diciamo c'è un pizzico Di spiazione Posso mettere un link? No Bampo Ti banniamo Se metti link No sto scherzando Ragazzi Certo che potete mettere link Basta che non sia Spam Di pubblicità Eh ci mancherebbe Linkate Tranquillamente Se fai i dungeon Forse Ho letto prima Se fai i dungeon Credo sblocchi Le scorciatoie Per un altro pg Boh Non lo sapevo Red Ones Però Tanto meglio Allora Questo mi da più health Quanti punti ho? Ah Madonna Ma addirittura 5 punti non spesi Ragazzi Vi chiedo Scusate Sono un cane Ho un sacco di punti Da spendere Allora A questo punto Survival of the pack Aumenta il danno melee Direi che ce lo capiamo Tranquillamente Cioè sicuramente Lo metto Hunter restoration Scusate You have increased health In every 3 seconds Your next hit Restores your health Harmony of blades You can dual wield Melee weapons Sì Assolutamente Ah Bella Il dual wield È fondamentale Può sempre servire Your minions Deal increased damage Using a potion Also use your minions For a percentage Of the amount Ok quindi Questo è per i minion Wisdom of the wild Questa aumenta Lo spell damage Ecco qui diciamo Che devo Devo iniziare A scegliere In cosa Voglio specializzarmi Cioè Voglio fare Danno elementale E In caso Prediligo Questa spell O voglio fare Danno melee Quindi Picchiare In caso Poi Digo Questa spell Ma direi Che il druido Si trasforma Il druido Che si trasforma Direi che Possiamo andare Con Mini damage Sicuramente Non sbagliamo Anche Questa Che aumenta La vita Questa aumenta Ecco io non so Cosa sia L'attunement Immagino che sia Qualcosa legato Alle spell Perché sempre Di spell Damage Parliamo Però Potrei anche Kapparmi questa Così almeno La kappo Allora Facciamo alt Ecco In tutto ciò Non l'ho detto Ma voi Premendo alt Il gioco Vi da maggiore Informazione Quindi H point Of attunement Grants Due mana And improved skills That rely On the innate Sulla magia Ok Bene Bene Quindi questo è perfetto Per i totem Che però a me Non interessano Each point Of strength Increases Armour By 4% And improved skills That rely On the raw strength Of you And your companions Such as Swipe And summon wolves Ok Beh io questa Direi che ce la possiamo Tranquillamente Kappare Primal strength Adesso vi Adesso vi recupero Adesso Adesso leggo la chat Ragazzi Se 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 Facciamo così Questa me la Questa me la Kappo Così a me Non ci penso più E bam Uh Abbiamo Abbiamo sbloccato Un'altra La terza abilità Nella barra Del primalist Cioè Summon Storm Cross Questo me ricorda Diablo 4 Anche in Diablo 4 Votevi summonare i corvi Però faceva schifissimo Cazzo Su Diablo 4 È una delle abilità Più scarse del gioco Mannaggia Infatti poi L'hanno Buffata Dopo Vabbè Questa abilità È quello che sembra Evoca Una Una tempesta Di corvi Fino a un massimo Del tuo limite Di companion Ah Castano 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 Da distanza Interessante Interessante Possiamo provarla Oppure possiamo tenere le abilità che già ho Che devo dire non sono male Però è anche vero che Perché dovete tenere gathering storm Quando questa fa più danni Cioè vedete gathering storm fa 62 danni per second Swipe fa 75 danni al secondo Quindi volendo potrei togliere gathering storm Dai provi Questo gioco bisogna provare Bisogna sperimentare Mettiamo al posto di gathering storm Metto Ah ecco c'è anche maestro Surrounds you with a freezing maestro That deals cold damage over time to near by enemies Allora non è male Interessante Interessante C'ha tante spell interessanti questo gioco ragazzi C'ha tante spell interessanti Da near a starlight target Ok questa è per curare Questa piacerebbe ad Askez Dato che lui vuole sempre curare Tempest strike Una melee combat attack That cycles through a cold strike Physical strike and lightning strikes Trigger elemental temp Spells of the same damage type If the strikes hit at least one enemy Minchia questa è potente 202 danni al secondo Ma è devastante Visto così sembra devastante Comunque Damage per second non calcolato Ah ecco un consiglio Che ho letto Per Se siete indecisi Diciamo su quale abilità usare Quale skill Expare Livellare Guardate sempre gli scaling tags Vedete che per ogni spell C'è scritto scaling tags Quell'indicatore Quella finestrella Vi indica Su cosa Scalano Le abilità Quindi ad esempio In questo caso Maelstrom Scala Su Cold Quindi freddo Incantesimi Dot Damage over time Danno ad area E attunement Tempest strike Ad esempio Scala Su Physical Lightning Cold Spell Melee Strength Attunement Via così Fuel leap Scala Su physical Melee Area Movement Traversa Strength Quindi questi sono i tag Su cui scalano Sulla base Di cui scalano Le abilità Possiamo provare Questo tempest strike Che è 202 danni al secondo Sembra fortissima Vista così Quindi Allora adesso vi recupero Ragazzi Vediamo questi covi Così poi li confrontiamo Con Diablo 4 Se sì adesso facciamo Un po' di prove Stardust Allora Buonasera Rezz Sì sì stasera Si continua Lastypok Assolutamente Cosa è linkato Una pagina How to skip How to campaign Skipping Lastypok Ok quindi si può fare Si può fare A patto di Sbloccare Delle cose Dungeon keys Ho capito Beh interessante Dai Almeno qualcosa di diverso Sì le scorciatoie Sì ma non so come funzionano Visto che le hanno messe Nella 1.0 Ok quindi diciamo Che è una cosa nuova Da scoprire Me l'ha linkato un amico Ma non ho letto tutto Grazie per il link Bampo Lo scopriremo Fui all'altro Sono solo abili dungeon Ho un paio di chiavi Sì che lo sappia Tutto il gioco È solo abile Madonna che brutto Solo abile Diciamo ed onest Che tutto il gioco Può essere affrontato In solitaria Perché questo gioco Può essere fruito Interamente in single player Come se fosse Diablo 2 I vecchi diablo Insomma Ti sbloccano i dungeon Prima Per livellare Senza fare la campagna Così farmi livelli Con i dungeon Non lo sapevo Interessante Attunement È una stat Come dexterity Intelligence Eccetera Devi controllare Le tue skill Per vedere Su cosa scala il danno Esatto Questo è quello Che stavo facendo Giusto prima Ottimo perché Di fare la campagna Anche no Eh Dipende Come è la campagna Se è una natura di palle Meglio schipparla Anche perché Se non ho capito male Non devi Inunciare alle passive E gli slot Idoli Che ti danno Durante la campagna Eh Guarda Io non lo so Però può essere Può essere Allora Devo proseguire Di qua Oh ma qui ci da Una quest Elder Erza Un bel trinket Bene Bene Dov'è un vendo E' che io devo vendere Tutto Vedo Un vendo Siamo in questo hub Ci sarà Per forza di cose Ci sarà sicuramente Un vendo Ecco di là Allora qui c'è Il Questo che vedete Con l'icona del cervello E il cronomance E dell'npc E dell'npc Che serve Per respeccare Infatti Gli posso dire Specialize Mastery Point Allocations Ok Quindi sappiate Che si può fare Da lui Questo È il vendor Sì Perfetto Allora io qui Teoricamente Dovrei mettermi Prima di vendere Dovrei mettermi A guardare Ogni singola Ogni singola Ma Sei più forte Meno forte Non ce la posso fare Ragazzi Sto qui fino a domattina Sto qui Allora Almeno Gli boots Li possiamo vendere Perché sicuramente I boots leggendari Che ho Sono i più forti Per il resto Usa il filtro Eh ma Il filtro Per cosa lo uso Red Cioè Cosa gli dico A sto filtro Una parola Mi vendo E servono solo Per smantellare Oggetti Lascia perdere Per ora Ah quindi Voi dite Meglio Smantellare Meglio distruggere Gli oggetti Che venderli Vabbè Se me lo dite voi Ragazzi Mi fido Piuttosto Ficco tutto Nella stash E poi smantello Da lì Ecco No Non volevo Equipaggiarla Mannaggia Adesso non mi ricordo Più neanche Cos'è che avevo Equipato prima Volevo mettere Nella stash E non Ma non è Una questione Di tempo Red E' una questione Che cosa gli dico Al filtro Cioè io ancora Non ho una build Cioè Nel senso Poi è un problema Mio di confusione Mentale Che io al momento Sono all'inizio Sono ancora Appena inizio A giocare Ragazzi Sono a livello Cos'è 12 Quindi Io al momento Non ho una build Precisa Quindi Il loot Filter Che cosa gli dico Non lo so neanche io Cosa dirgli Cioè Sono ancora Gli inizi Del gioco Ragazzi Quindi Quindi facciamo Che fico Tutto qui E poi ci pensiamo E poi ci pensiamo Come i bei tempi Su diablo Su diablo 4 Che avevo Le stash Piene zeppe Di roba Con la differenza Che qui Di stash Se ne possono avere Quasi infinite Ecco Ci possono essere Potete avere Centinaia di stash Buonasera Galatimus Ma no Smantelli Solo per i glifi Che servono Magari di ti er'altro Di ti er'altro Altra roba Si vende Vendi tutto Senza paura Ok Mi stai dando Feedback Mi stai dando Feedback Contrastanti Ragazzi Quindi È il momento In cui Inizio È il momento In cui Vado in crisi Quando dicevo Feedback Contrastanti Quindi Facciamo che Per adesso Lascio tutto Lì Salt items Questi Posso tutti Metterli Nei materiali Il che Ah Che bello Una figata Questa cosa Almeno Ti levi Tutta la madda Scegli il filtro Da druid Leveling E via Non ti preoccupare Rez Prima Voglio capirlo Il gioco Allora Find The Legend The Dead The Lives Enter The Last Archive Ok Quindi Possiamo Proseguire Con la Main Quest Sì Abbiamo poco Tempo Va bene Va bene Va bene Arrivederci Arrivederci Chau Chau Lì Questa cosa dei parei contrastanti Mi ricorda Diablo 4 Esatto Stardust O dei flashback Di Diablo 4 Lol va bene Ma si chiaro Ha ragione Redones Fino al livello 50 si può tranquillamente Vendere tutto Poi iniziano a droppare i suffissi buoni Ma è sempre così Negli e che slash ragazzi Finchè non arrivate all'endgame E' tutta mad Che si può tranquillamente vendere O riciclare o smantellare Poi Quando si arriva all'endgame Poi allora è lì un minimo di attenzione Comunque E' chiaro E' chiaro Ah posso usare You can now use your portal To return to your last visited town Perfetto Quindi ho sbloccato il portale Bene Portale cittadino Stile Diablo Vabbè Cos'è Jade Amulet Eh vabbè Quindi andiamoci Jade Amulet Va bene Siamo all'epoca Mamma mia Che incubo Il Il loot L'itemization Di Diablo Va bene Questo schifo le cose Io Vi ricordate L'itemization Di Diablo 4 Che io ho passato Settimane A cercare Di capire Come funzionava Come funzionava L'itemization Cioè quali oggetti Erano leggendari Quali erano Gli epici Quali erano Gli uber Quali erano Gli unici E non si capiva Un cazzo Mamma mia Che tragedia Allora Andiamo Find Elder Erza Sledger Perfetto Qua vi andiamo Facciamo sta quest Che E' molto buona Me lo ricorda come Alla fine decido Di fare a modo tuo Alla fine ho deciso Che ho buttato Tutto in banca Non ci ho più pensato Per mesi Stardust Mamma mia Che stress Perché poi a me Se c'è una cosa Che mi piace A me la cosa Che piace Degli hack and slash Degli action RPG Isometrici E che tu vai E massacri tutto No Cioè sono anche giochi Rilassanti Perché sono giochi In cui tu vai E farmi Farmi Ammazzi tutto Se c'è una cosa Che non mi piace E' quando devo iniziare A mettermi lì Proprio A studiare A minimaxare Ma è meglio questo No È meglio quello Ma aspetta C'ho 40 oggetti Da guardare Di ogni singolo oggetto Devo analizzare Quasi un quale è meglio Cioè Proprio E uno diventa uno stress Diventa uno stress Quindi Quindi sì Per carità Cioè Da questo punto di vista Sono un uomo semplice Infatti lo so Che Allora Proviamo questa nuova abilità Questa Tempest Strike Che sembra fortissima È fortissima Ragazzi Questa Tempest Strike Però cosa fa? Succede qualcosa Tipo mi corrompe Questa Tempest Strike Quando la tiro No Niente Ho detto una cazzata Comunque Concordo pienamente È un genere Che ti deve liberare Non a pesantia Ma tutti i videogiochi In generale Devono divertire Stardust Non c'entra nulla A livello Con lo smantellamento Vendi per soldi E smantelli Per i frammenti Indipendentemente Da quanto altro Sia il suffisso Ti dà comunque Frammenti Che potresti usare In endgame Soprattutto se ancora Non sai che build Creati Bene Quindi Confemma Quindi Mangiacadavri Confemma Che c'è Che c'è Polemica In chat Perché C'è chi C'è chi è Del team Abbiamo Abbiamo due team In chat Abbiamo il team Vendi tutto E abbiamo il team Smantella tutto E quindi Ognuno dice Che è una cosa diversa Io Io non lo so Allora Qui c'è una Broken sword Che però Non è il gioco Broken Bello Broken sword Grande classico Ok Perfetto Take the ledge Benissimo Beh Questa è una side quest Di una velocità Imbarazzante Bam Bello Si Benissimo Ci schiatto Forse si No Non ci schiatto Molto bene Io sono del team Accumula tutto Ok Continuo a comprare Stash Su stash E non E non vendo mai Proprio La soluzione Dell'indeciso Quindi c'è Una prima soluzione Vendere tutto Ai vendor Soluzione 1 Vendere tutto I vendor Soluzione 2 Smantellare tutto Soluzione 3 L'indeciso Tenersi tutto E la stessa Cosa di Diablo 4 Vai dove ti volete al cuore E fai un po' E un po' Identico problema A cui abbiamo già trovato La soluzione Alla fine Alla fine Cos'era meglio Forse era meglio vendere Perché all'endgame Ti servivano un botto di gold Servivano milioni di gold All'endgame Per Come dire Per Craftare gli oggetti giusti Dall'occultista Eccetera eccetera Ho fatto un po' Un po' Si 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 Però i gold Veramente serviva Una pioggia di gold Su Diablo 4 All'endgame Io accumulo tutto Finchè non mi ci sta Nemmeno un anello E bravo Galatius Vedo che siamo simili Comunque cambia poco Trovi soldi Item a palate Quando vuoi una stessa in più Vendi se non smantelli Mi sembra giusto Mangia Cadaveri Allora Andiamo a consegnare Questa questa Che tra l'altro So che dà un ottimo Mi sembra che dia Un trinket Questa missione Che è molto forte No aspetta Dov'è che si consegna Mi sono perso Vabbè Nel senso Mi basta usare T Per tornare in città In realtà Molto comodo Town o portal Si Vacci Oh Ma Ma come si entra Nel town portal Scusate Ah Ok Ok Perfetto Allora Elderezza Il vecchio Il vecchio Ezza Il vecchio Tobia Bene bene Bravo Two elder Ezza In the council Chambers Perfetto Perfetto Mi ha dato Punti passivi Gold Experience E soprattutto Questi guanti Che sono guanti Epici Leggendari Ragazzi Occhia a non cadere qui Qui comunque dovrebbero Dovrebbero usare il bonus Il 110% Per Per Ristrutturarla Perché Insomma Un buco nel vuoto Così in mezzo al nulla Non è il massimo Allora Dicevo Ho trovato Ho troppato Guanto Epico Leggendario Epico Leggendario Avarice Avarizia Have the wisdom To know what is rightfully yours And the will to seize it Ebbè che dire Ebbè Ebbè Allora io adesso Posso fare Dual Dual will dare Perché ho sbloccato L'abilità Per Dual will dare Sì Quindi Se io volessi Provare una roba nuova Giusto Questo è un gioco Che comunque ti invita A sperimentare No È Bella questa Questa staffa Però Io Proviamo Un'ascia A una mano Allora Devo trovare Delle armi A una mano Allora Questa è una E poi E poi Una Ah ecco Questa Questa è un piccone Un piccone Vediamo un po' Quel piccone migliore È una parola Poi qui dovevi Mettermi A leggere Tutto Quanto Mamma mia Ci vuol Fazienza Mettiamo Dai Ci mettiamo Questo E questo Evviva Bene E Vabbè Questi li posso vendere Sì Su 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 Oh ma C'è gli anellini Ma questo Mi aumenta La velocità In movimento No Aspettate Fondamentale L'anello Che ti aumenta La velocità In movimento Lo metto Ma subito Questo Lo vendo E Questo Più 25 Doge rating Beh Direi che Abbiamo due Nuovi anelli Signori Questo Lo shadow Quindi Transformative E questo Me lo tengo Perfetto Allora Questo Lo vendiamo Guarda Guarda come si muove veloce Velocissimo Adesso Bene Bene Bello cattivo Il mio druido Adesso con Un piccone In una mano E un'ascia Nell'altra Devo dire Fa brutto Fa brutto Questo Questo Primalist Esatto Doppio piccone Build da minatore Galatimus Volete il doppio piccone Build di cattiveria Allora C'ho C'ho questo O questo Qual è il migliore Tra i due 18 18 Allora Proviamo Rientra Hurricane Piccaccio Vang O Piccaccio Wounds Cambia Così nulla Questo Da più Physical Damage Dai Metto questo Che da Più Physical Damage Questo Anche in Crisimili Damage Va bene Dai Si cazzi Esatto Adesso si va A scavare I nemici Build full Ignoranza Ci piace Galatimus Ci piace Buonasera Ariovril Benvenuto Ma nonna Io giocai l'alpha All'epoca Come è cambiato La prima Figo Guarda Non ti so dire Perché banalmente Io non l'ho giocato In elio access O meglio Si l'avevo giocato Una sera Avevo fatto uno streaming Un anno fa Quando era in beta Però Ce l'avevo giocato Letteralmente Due ore Quello che posso dire Che figo questo scudo Molto bello No Quello che posso dire È che adesso Sembra Sembra molto Sembra un bel gioco Cioè Fatto molto bene Come Come Che slash Find Pannion study Ok Proseguiamo con la Main quest Facciamoci un po' di main quest Allora Aspetta un attimo Voglio vedere Un attimo Allora Qui non l'ho ancora sbloccata Qui Cioè Questa Questa parte Non l'ho ancora sbloccata E Di qua si va per The The last archive Ok Mentre invece di qua Comunque dicevo Sembra molto Sembra molto figo Se Siete appassionati E gli e che slash Ragazzi Almeno una prova È d'obbligo Almeno Provatelo Perché se la merita Se l'inglese Per voi Non è un problema Non capisco dove si va Vabbè Andiamo Ah no Niente Non posso Ma scusa La main quest È di qua Find Impennion Find Pennion Study La main quest È di qua Mi serve una chiave Ora che ho cappato WoW Ci sto facendo Un mezzo pensierino Ah guarda WoW Non finisce Quando si è cappato Stedust Io Ask Zoe Kravuz Stiamo continuando A giocare Anche al 40 Ci stiamo equipando Per fare Gnomeregan O Gnomeregan Ma non Sono bloccato Ragazzi Dove devo andare Nel senso La main quest È chiara Find Pennion Study Da quella parte Però è bloccata C'è un quest log In questo gioco Ah le lad Questo non l'ho detto Questo gioco È iniziato È uscito Già Già Con un sistema Di ladder E leaderboard Presente al day one A differenza Ad esempio Di Diablo 4 Anche se in questo momento Non me le carica Vabbè In questo momento È buggato Però vi assicuro Che funzionano Ci sono le lad Sia per i giocatori Normal Che in hardcore Ecco adesso Ad esempio Le caricate E vedete Qui c'è Prima abbiamo visto Il normal Questo invece È l'hardcore Sì sì Non finisce Ricetto Ma il cap È sicuramente Il minimo A mio parere Sì diciamo Una volta che raggiungi Il level cap Diciamo che puoi Puoi ridurre un po' L'impegno Ecco perché finché Finché sei lì Che devi livellare Giochi come un pazzo Giochi Giochi tutto il tempo A tutte le ore possibili Una volta che hai cappato Diciamo che te la puoi gestire Un po' meglio Ovviamente A livello di In termini di tempo Io però Sono bloccato Non vorrei dire Le quest Mostrami le quest Questo devo tornare No questo è completà Ah no Missing in the islands Ma devo tornare Ah c'è una missione Che mi avevo lasciato indietro Ha detto Dall'atto 1 Find elder pennion In study Within the last archives Ah ma allora Devo andare In the last archives Pennion study Ho capito Quindi devo andare Devo andare In the last archive E dal the last archive A panion study Ok facciamoci ancora Questa cosa Ehm Quindi last archive E dove ero prima Ma allora Però scusate Qui è bugato Nel senso che il gioco Mi dice chiaramente Vedete quest'icona In alto a destra Dice chiaramente Che devo andare Da questa parte In realtà non è vero Devo andare Dove ero prima E forse posso anche Ecco Riprendiamo il portale Per il last archive Sta caricando Portaling to the last archive Eh si Lo devi pre Ma perché Io non ho capito Come funziona Non capisco Vabbè Ehm Andiamo a piedi A the last archive Eh ho capito Io ci andrei pure Se funzionassero i portali Cazzarola Andiamo a migliorare Questo funzionamento Dei portali Perché mi si bugga Oh Allora Find Penion Study Eh niente Esploriamo Potrebbe essere ovunque Ma in realtà Il gioco ci fa capire Che è in alto Vedete In alto Di qua Ma se vi piacciono Gli action rpg Ragazzi fateci un pensierino Costa 33 euro Mi sembra Sì 34 euro Questo onestissimo Per un ottimo Hack and slash Non vi aspettate Un gioco rivoluzionario Perché Ehm E l'ennese Diciamo Per chi mi chiede Plinius Ma la stipok È l'ennesimo E che slash La mia risposta è Sì È l'ennesimo E che slash Però ho fatto bene Che scusate se è poco Minchi Oh comunque Menano Oh comunque è menano E queste Il doppio piccone Mena come un fabbro Anzi Come un minatore Questo doppio piccone Mena come se non ci fosse un domani Bene Adesso Ah intanto ho sbloccato un'abilità Mi ha detto il gioco Upheaval Upheaval Sanders the ground In a line in front of you Dealing damage to enemies Along the path Eh questo 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 ragazzi Ma se io facessi una follia E lo mettessi al posto Della 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 Dove avere un senso Proviamo Sì scusa Mi stanno attaccando Zio Scusa This is not the end Bene E' in tema coi picconi Esatto Scavo Scavo Perfetto direi Vabbè questo è il mio nuovo auto attacca Cioè il mio Il mio attacco base Voglio dire Beh devo dire che Adesso Adesso che Adesso che le cose Stanno iniziando ad entrare Devo dire che E' già più soddisfacente Rispetto a quando No perché io ci ho giocato Cos'era Sabato E sabato Diciamo che Non mi stava soddisfacendo tantissimo Adesso che le cose Iniziano ad entrare E' già E' già un altro discorso Ecco Oh state buoni L'audio è alto ragazzi Questi urlano come degli ossessi Forse è un po' alto l'audio Ma va bene Mi sono perso un pezzo Ma i corvi come sono Allora in questo momento Non li sto usando Perché ho trovato Le abilità che sono molto forti Star Dust Tempest Strike È fortissima Infatti costa anche più Ma delle altre Cioè guarda Tempest Strike Fa 317 danni al secondo Queste in confronto Cioè queste molte meno Poi ho trovato World Cry Ho trovato Fui Lip Che è fondamentale Posso metterlo Al posto del lupo Dai proviamo a cambiare Il lupo l'abbiamo visto Com'è Vediamo come Come sono i corvi Secondo me Sono più scarsi Però Allora Il lupo fa È difficile da dire C'è un solo modo Per saperlo L'audio va bene Ok ottimo Perfetto Allora Cos'è lì Brass amuleto Va bene amuleto Me lo posso poi rivendere Ecco qui i corvi Ci sono i corvi Posso dire Che neanche Li ho notati Cioè Credo che facciano Più cc Che danni Credo Vabbè Oddio Qui li ho notati Però eh Qui li ho notati Questa roba Mi suota Del mana A dei livelli Allucinanti Mi risucchia Tutto Ma Allora Fammi capire Allora Sì Questi corvi Fanno A single Massive Lightning Strikes On the targeted Area After a brief Delay Hitting All enemies In the area Deals 50% More damage Per contributo In crow Al momento I corvi Sono solo due Tirano Niente Tirano Un singolo Colpo Di fulmine Nell'area Bersaglio Però dopo Un breve Ritardo Quindi c'è Un leggero Lag Perché devono Devono lanciare L'ho attativo Proviamo Io faccio Faccio così Sì Va bene Devo dire La verità Non so se mi convincono Però è interessante Perché comunque Anche Anche se io Non uso l'abilità Comunque ce li ho Vedete Tenendo l'abilità In barra Li ho evocati I corvi Quindi comunque Mi danno una mano Allora se io volessi fare Il druido Beastmaster Dovrei tenere Evocati i corvi Dovrei tenere Evocato il lupo Dovrei tenere Evocati tutti quanti Gli animali Gli animaletti Il che sicuramente Sarebbe interessante Uh Questa è una Spada tossica Una spada Tossica Per 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 un Per uno streamer Tossico Chi lo sa Vabbè per adesso Non è male questa spada Davvero ci piace La build Doppio piccone Diciamo che i lupi Ti tankano Anche un po' di danno E i corvi Fanno danno Sì Però Ad esempio Se io volessi Provare a fare La build Minion master Premesso che È ancora presto Per parlare di build Però Io mi metto Il lupo Io mi metto Il lupo qui E i corvi Scusa Dove sono i corvi Qua E in questo modo Ossia il lupo Sia i corvi Che mi seguono E infatti Vedete che c'è scritto In Potrei anche farlo Sono tentato Di fare Il druido Beastmaster Vedete che in alto a sinistra Infatti c'è scritto Il companion che ho attivi Ho attivo Il lupo E i corvi Potrei anche farmi Un bel Druido Beastmaster Sono indeciso Signori Sembrano molto Sembrano tutte Molto interessanti Se non mi ammazzo Bene Grazie Interessante Così ricorda un po' Il necro Che evoca cose Sì Poi non so se lo farò E ti dico la verità Stadast Perché anche il druido Perché ho il druido Vecchio stile Tanta roba È proprio il druido Che shapeshifta Cioè Sono due visioni Del druido Diverse Una è la visione Del druido Che controlla Gli animali Un'altra È la visione Del druido Che si trasforma Lui stesso In animale E Sono molto belle Entrambe Diciamo È veramente Accattivante Con tutti gli animaletti Intorno Però dai carino Sì sì Spero che sia più viabile Del druido Beastmaster Di Diablo 4 Perché se vi ricordate Io su Diablo 4 Me lo ricordo molto bene Che a giugno Un anno fa Volevo farmi il druido Che evocava lo zoo Di animaletti Solo che è talmente scarso Che ci avevo provato E a farlo Però A un certo punto Quando ero arrivato All'endgame Avevo detto Vabbè accantoniamo Questa build E faccio il druido Quello Mi avevo fatto il druido L'orso mannaro Che era fortissimo Era una delle classi Più rotte In assoluto Il druido Nell'endgame Su Diablo 4 Però E quindi Di fatto era ingiocabile Il druido Beastmaster Qui magari Interessante Abbiamo trovato Apprentice Farron E' una trappola Rip E li mando contro I miei animaletti E vieni Allora il problema Di mettere Questa abilità Come abilità primaria E che se rimango senza mana Letteralmente Non posso attaccare Il che non è Il massimo Come capirete No Devo poter attaccare Me la cambio al volo Swipe Vai di swipe Attacca al volo Minchia quanta vita Oh Ragazzi miei Quindi ho rischiato Tra un po' Non vedo niente Ok Bene Return to Eld Ah quindi Niente Rip L'Elder Pagno Return to Eld Dobbiamo tornare dal Dal senatore Gasparri Eh Elder Pagno Ne è sparito L'hanno L'hanno rapito Bene Ho trovato un po' Gli amuleti Interessanti Però io c'ho Un leggendario Bleeding Art Il cuore che sanguina Quindi non posso Non posso Rinunciare C'è la Poison Beastmaster Con lo scorpione Che è carina Eh ma lo vedo Che ci sono tante Tante cose carine Tante cose carine Guardate quanto Junk Quanto junk loot Vabbè Io purtanto ormai Devo andare a consegnare Quindi mi prendo tutto Che me frega Ma si Ok Quindi posso fare Il portalino E via Ragazzi scusate Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Qui qualcuno mi deve spiegare Ah ecco Ma come funzionano Sti portali C'è mezz'ora dopo Mi teleporta C'è c'è un po' C'è un po' di lag Quando usi i portali Cazzarola C'è Avete visto Io ho boccato il portale Prima che si attivasse Sono passati 30 secondi C'è un po' di lag Anche lo squirrel Beastmaster Con l'esercito di scoiato Li lol Baldur's Gate Intensifies Anche lo Purtroppo, vecchio mio. Vedendo lui, è andato dove il voido è bruciato nella città. Porremmo, stoppiamolo. Purtroppo, vecchio mio. Allora, è qui. Vendo, riciclo? È la grande domanda. Io, per non sapere leggere né scrivere, venderei, che non è mai una cosa sbagliata. Anche perché, vendendo, mi faccio un po' di gold e i gold li posso usare per comprare nuove stash. Vedete che, se io clicco su più, posso comprare un additional stash per mille gold. Oppure, ah ecco. Questa è gratis, ma manco l'ho pagata. Ne puoi aggiungere... Eh, vedete, vedete la grandezza, la bellezza di questo gioco. Vabbè, comunque... Vendiamo un po' di roba. Anche perché devo dire che mi piace molto l'idea del... Mi piace molto l'idea del dual wield. Di avere due armi a una mano. Quindi direi che l'arma a due mani le posso... Le posso vendere. Mi è ricordato poi con l'esercito di rane. Lol. Eh, su Path of Exile si potevano fare delle build assurde. Devo dire, la verità, non mi ricordo nello specifico l'esercito di rane. Però non mi stupisce. Diciamo che su Path of Exile puoi fare qualsiasi cosa, se sai, un attimo. Destreggiarti tra le build. Ah, questo ho anche... Ma se io ne metto due di anelli che aumentano la velocità di movimento, questa velocità di movimento si somma? Perché se sì, è molto interessante. Vuol dire che vado il 13... 7 più 6, il 13% più veloce. Adesso lo provo, eh. Adesso lo provo. Vendo giusto la robaccia. Eh, non male, non male. Ma va bene, più 23 health. Allora. Questo lascio qui che è buona. Ehm, dicevo... Ma sì, va bene. Ehm... Questo qua. Facciamo un po' di... Mettiamo in ordine. Allora. Transfer materials. Allora. Io al momento mi sto muovendo con questa velocità. Ok? Guardate anche voi, così mi dite se aumenta oppure no. Al momento questa è la velocità. Se io cambio... Se io cambio anello e lo metto al posto di questo... Sono più veloce rispetto a prima? Forse sì. Sì, mi sa che sono più veloce rispetto a prima. Beh, ragazzi, è una bomba. Due anelli i cui effetti si sommano. Vado veloce come un treno, praticamente. Figata. Perfetto per speedrunnare il gioco, direi. Sì, sì. Direi che chiaramente gli effetti si sommano. Perché se io lo tolgo... Sì. Vado un po' più lento. Bene. E allora direi che... Sì. Il gioco è stupido. Sì, sì, sì. Assolutamente. Sono più veloce così. Boh, perfetto. Arrivederci. Certo, mi dispiace rinunciare a quest'anello. Spell damage. Increase cold damage. Più nove health. Vabbè, diciamo che dirla tutta a questo anello è più forte. Perché effettivamente è più forte. Che cazzo sto facendo? Scusate, sto facendo casino. Comunque. Basta usare il chip per scoprirlo. Giusto? Bravo, mangiacadavi. Non ci avevo pensato. Eh, ragazzi, io sono nuovo di questo gioco. Quindi sono un hub. Datemi assolutamente consigli. Fate bene. Esatto. 26% movement speed. Io lo metto qua. Eh, beh, sì. 32%. Sì, sì. Ok, buono a sapersi. Dico la verità. Non so se lo voglio usare. Perché comunque quest'anello mi dà più dodge rating. Increase spell damage. Increase cold damage. È più L. È più vita. Però... Buono a sapersi. Molto, molto interessante. Adesso posso passare di qua o ancora... No, è ancora... Questa porta è ancora sigillata. Quindi dovrò proseguire verso Nord, immagino. Esatto. Infatti adesso si è liberato il passaggio. Allora, if they couldn't... If they couldn't best those things, maybe they deserve to die. Cattivissimo. Di cattiveria proprio. Va bene. Buona sera, Bominicale. Hanno già comunicato un eventuale piano di supporto post lancio? No. Che io sappia no. Considera che il gioco è letteralmente appena uscito. Stiamo comunque parlando di un piccolo team indipendente. Quindi credo che ci vorrà un po' di tempo. Prima che annunci no. Il futuro del gioco. Anche perché in questo momento so che tutto il team si sta concentrando sul... Sul migliorare il matchmaking, no? Migliorare la situazione dei save, dell'online, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo una side quest che è find the armory. E la main quest è each of our district located beyond the armory. Quindi all'armory comunque ci dobbiamo arrivare. Saving last refuge. Di riffa o di raffa, in qualche modo ci dobbiamo arrivare. Ah, questa è una piccola istanza. Gli anelli me li prendo. Così magari capita la volta che trovo un anello che mi dà più 15% di velocità. E lo uso molto volentieri. Fai sempre le secondarie che danno punti passivi pure slot degli idoli. E' indicato se li danno tra le ricompense. Vediamo se li danno, bomilcale. Allora. Le quest. A questa da 75 experience e 200 gold. Però io avevo lasciato... Mi ho lasciato una missione... Eccola. Mi ho lasciato una missione indietro. Poi magari questa con calma me la recupero. Nel primo atto. Missing in the islands. Cos'è che link al buon Silma? Post launch mid week update. Cavoli, ma quando è uscito? È uscito oggi, letteralmente. Alle sette e mezzo. Pensate che roba. Cosa dicono? Online services. Dicono che continueranno a lavorare. Allora, fermi tutti. Fermi tutti, ragazzi. Qui c'è una roba importante che adesso leggiamo insieme. Perché qui parlano anche di future localizzazioni. E questo interessa anche a me leggerlo. Allora. Future content. Traduci in italiano. Contenuti futuri. Siamo entusiasti di iniziare a condividere... No, non lo vedete, scusate. Adesso lo vedete. Siamo entusiasti di iniziare a condividere con voi i futuri pieni di contenuti che abbiamo per la Stipo, che è inclusa la nostra prossima patch di Cycle 1.1. Il contenuto in arrivo con la patch 1.1 è progettato specificamente in due parti. La prima e più importante parte è concentrarsi e dedicare tempo ad agire in base al feedback dei giocatori. Siamo totalmente impegnati a realizzare il miglior action RPG del genere. Proclama importante. Dichiarazione altisonante. Ci sarebbe anche un certo Path of Exile, ma va bene. Siamo totalmente impegnati a realizzare il miglior action RPG del genere e ascoltare la nostra straordinaria community è una parte importante di questo. Inoltre durante il ciclo... Il ciclo sarebbero le stagioni, ok? Durante il ciclo 1.0 intendiamo rilasciare regolarmente patch sulla quality of life e sulla correzione dei bug. In secondo luogo, come forse saprete, daremo molta importanza all'espansione dei contenuti endgame ora che abbiamo rilasciato la versione 1.0. Per le patch future abbiamo in programma di espandere il monolite, introdurre nuove fantastiche opzioni di classificazione degli oggetti, aggiungere più contenuti per i boss, aggiornamenti di classi e bilanciamento, contenuti della campagna, eccetera, eccetera. Per la versione 1.1 in particolare ci concentreremo sull'introduzione di alcuni contenuti di punta, o molto più importanti. Due dure lotte che ti daranno sfide a cui aspirare. Ok, contenuti endgame comunque. Condivideremo di più su questo e su ciò che arriverà nella versione 1.1 in un futuro non troppo lontano. Vale la pena sottolineare che è H, che non so cosa sia. Aspetta, ma non ho letto la cosa più importante, ma sono un cretino. Non ho letto la cosa più importante, mi sono saltato la cosa più importante. Allora, c'è un hotfix patch post 1.0 in arrivo. Non so perché ho schippato un pezzo, comunque. Servizi online, sì, stiamo migliorando, pubblicheremo, sì, stanno potenziando i server. Allora, leggiamola, so che a voi interessa la parte sulla localizzazione, per sapere se questo gioco verrà tradotto in italiano oppure no, questo benedetto gioco. Leggiamola subito. Localizzazione. I miglioramenti della localizzazione sono continui mentre ci concentriamo sulla qualità delle nostre traduzioni e ci coordiniamo ulteriormente con madrelingua e team di test di garanzia della qualità. Rilasceremo miglioramenti con i nostri hotfix settimanali per rispondere al feedback ricevuto finora, comprese correzioni qualitative per tutte le lingue, menu, affissi ed errori dell'interfaccia utente segnalati per russo, coreano e cinese. Chiediamo il vostro continuo supporto per migliorare la nostra esperienza in tutte le lingue, inviandoci segnalazioni tramite il forum ufficiale di Last Epoch Discord nel forum di localizzazione e traduzione situato nella sezione feedback e segnalazioni sotto il forum di feedback utilizzando il nostro support in game, eccetera, eccetera. Vabbè, non hanno detto assolutamente nulla, ragazzi. Cioè, hanno promesso che miglioreranno la traduzione nelle lingue per cui la traduzione in italiano è già disponibile, e cioè russo, coreano e cinese, però in queste righe non hanno assolutamente detto che tradurranno il gioco in altre lingue, men che meno che lo faranno in italiano, purtroppo. Quindi, no, non hanno confermato che il gioco verrà tradotto in italiano, ahimè. Mi dispiace, ragazzi, per chi di voi lo aspettava. Poi magari succederà, eh, però non ne hanno parlato. Quindi, sicuramente, se succederà, non è a breve. Non è a breve. Va bene. Ah, i EHG e i Levent Hour Games, cioè il nome della software house. Recensioni, sì, va bene. Ci impegniamo a riconquistare la fiducia, apportando miglioramenti alla nostra infrastruttura di back-end per questa quantità di carico e fornendo un'ottima esperienza di gioco online. Ok, ok, chiaro. Continueranno a supportare il gioco. Abbiamo molti aggiornamenti in arrivo, prima della patch 1.1. Ok, quindi, di fatto, hanno detto che, eh, hanno annunciato la prossima, il prossimo major update. Ok, quindi la prossima patch grossa, che sarà la 1.1, che arriverà, diciamo abbastanza breve. Non hanno dato una data, però hanno detto che arriverà abbastanza a breve. In un futuro non troppo lontano, hanno detto. Ok, va bene. Con tutte le lingue, intendono tutte le lingue a parte di italiano, esatto. No, vabbè, scherzi a parte, lo intendono. Miglioreremo la localizzazione per tutte le lingue per cui il gioco è già tradotto, ovviamente. Però, il fatto che verrà tradotto in altre lingue, questo è tutto da vedere. Comunque, grazie a BD Cinema per il link, perché è, beh, molto interessante, così almeno abbiamo potuto leggerlo in diretta. Magari ci facciamo anche una news domattina su questo. Troverete la news su mmo.it, sempre se non esce roba più urgente e importante, ovviamente. Allora, find the armory. Allora, io qui in realtà andrei un po' veloce, che ne dite? Allora, metto... aspettate un attimo. Allora, non è di qua. Ok, quindi già poi attiviamo malissimo. Vabbè, un po' di questi mob li possiamo anche schippare, che dite? Dai, su. Su. Tanto c'ho gli animaletti che mi proteggono. Tutti qua, tutti qua, sì. Scusate, ragazzi, purtroppo si sta avvicinando quell'ora in cui inizio ad avere il naso chiuso. Anch'io verso notte, quando cala la sera, in questo periodo purtroppo. Ok, beh, devo dire, non male lupo e corvi insieme. Fanno un bel cicci. Fanno un bel cicci. Perché, se ho capito bene, il lupo stunna e i corvi fanno danno. Quindi, non male, non male. Se in poi non è presente l'italiano del migliore del suo genere, perché metterlo qui sarebbe bello. Eh, guarda, nel caso di Pato Vexile non metterò l'italiano perché è un gioco enorme. Pato Vexile, poi, ricordo che ogni tre mesi esce una nuova season che praticamente rivoluziona il gioco. Quindi, quando, cioè, considerate che se traducesse Pato Vexile in italiano non dovrebbero tradurre solo Pato Vexile, cioè il gioco base. Ma Pato Vexile più tutte le stagioni che escono ogni tre mesi, sarebbe un delirio. Cioè, sarebbe bello, eh. Ovviamente sarei contento, però, purtroppo. Non l'hanno fatto con Pato Vexile, tra l'altro sappiamo già che non lo fanno neanche con Pato Vexile 2. Il che, se vogliamo, è molto triste, però funziona così. Che ci vogliamo fare? Eh, ho indeciso se rimettermi Tempest Strikes. Fatemi vedere. Triggers a Frigid Tempest is a code projected that pierces through enemies. Physical Strike triggers a Wind Tempest, which is a small twister that lasts a short duration dealing physical damage. Non so bene al posto di cosa metterlo. La build Corvi, tuono e potente. Ok, ok, ma è quella che ho adesso o devo cambiare l'abilità abominicale? Non ho capito. Bene, avanti. Livello 15, evviva. Posso metterla di tu a 4 punti? Io ogni volta mi dimentico di mettere i punti. Sono un cretino, ragazzi. Insultatemi se volete. Ne avete il diritto. Intendo build and game finché tutti gli slot skill va di sentimento. Perfetto, abominicale. A posto. Che livello sono? 15. Tra l'altro tra poco devo sbloccare la specializzazione. Se non sbaglio si sblocca intorno al livello 16 più o meno. Quindi o stasera o la prossima volta. Allora, facciamo più danno o aumento la vita? Beh, oddio, fai più danno o non è mai una scelta sbagliata negli hack and slash. Quindi andrei con un bel po' di danno in più. E volendo posso anche aumentarmi un po' la vita. Increased health. Massi. E al prossimo livello sblocco Serpent Strike. Quindi posso evocare addirittura un serpente. Però gli chiede una spear, una lancia. Non so se ce l'ho una lancia. Vabbè, poi guarderò. Comunque. Andiamo avanti. Non hai... Cosa? Oh madonna, ma c'è il boss. Come lo meno? Inaspettato. Dove va via? Boss che mi copre il passaggio. Eh, ma non so come menarlo. Ah, lo colpisco da qui. Non... Non pensavo. Madonna. Che palle Dai su muori Ok Perfetto Questo di tutto Ancient cavern Ah mi ricordo che questa cosa l'avevo già fatta Ho dei vaghi ricordi ragazzi Che l'avevo già visto nell'Ely Access Mi ricordo questa Questa ancient cavern Però io dovevo proseguire di là Vabbè investigate the time rift Investigiamo Mi butto Allora Aspettate un attimo ragazzi Devo mandare un messaggio Datemi 10 secondi Ok go E chi è questo insettone? C'è pure l'insettone che mi segue Sono carini questi cambi di tono e di ambientazione durante la campagna Eh ci sta Aiutano un po' a cambiare il ritmo Così Allora lì Ok devo assolutamente sbloccare Il portale Would you like to return to your previous time and location? Sì? Va bene Vadi 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 Aspettate una Datemi un momento ragazzi Scusate c'è Askez che mi ha mandato un messaggio vocale Ecco Sentiamo il messaggio vocale di Askez Se sei già a Grom goal Anche quando mancano 10 minuti 5 minuti Ok perfetto E questa è la voce del buon Askez Che mi dà consigli Per partecipare all'evento pvp Di Strangleton Vale Su WoW Classic Season of Discovery Dovevi proseguire C'è un boss dopo E ho capito Porca di quella puttana Bomilkale È il gioco che mi ha detto Toyna nella tua epoca Questa cosa è fatta col culo Che cazzo Il gioco mi propone Di tornare nella mia epoca Che cazzo me lo proponi Se c'è un boss da fare Io mi ricordo Sapete perché mi arrabbio Perché mi ricordo Che la stessa identica cosa Era successa Quando ci avevo giocato Un anno fa A questo gioco Era successa La stessa identica cosa È questo Il boss Ok Si si Con femmo No Ok Eh niente Scusate Purtroppo Tra poco stacco Ragazzi perché Quando inizio a soffriarmi Continuamente il naso Diventa uno streaming Diventa uno streaming Penoso Non è più divertente Da seguire Quindi Facciamo ancora questo Allora Di qua Non si passa Quindi non è a quello Il boss Dopo il portale Di ritorno In alto C'è un ponticello Prosegue Che cos'è questa Io non sto capendo Il gioco non ti spiega Cos'è questa exile Mage Madonna Ma è lui il boss Cioè Questa cosa Totalmente Non spiegata Proprio Il gioco Ti lascia in balia Degli Degli eventi Senza dirti nulla No ma tra l'altro Questo tipo è fortissimo Ok Non l'ho capita Questa cosa Cioè Il gioco non ti spiega Minimamente E' questo il ponticello Ok Come siamo messi In inventario Quasi pieno Vabbè io finché posso Piglio tutto E poi rimendo Fatemi sapere Fammi sapere Se la stella è giusta Bomicale Che io qua Il gioco mi ha abbandonato Non mi dà più indicazioni Eh no Non è di qua Bicolo cieco Bicolo cieco Signori miei Allora io adesso lo cerco Poi se no lo trovo Sti cazzi Sti gran cazzi Eh comunque Tu mi hai detto Anoid Dopo il portale Il portale è questo Quindi Di là Sembrava giusto Ruine Allora lì si dito A noi la ruina ed era Qui da dove son venuto Questo è il mago Posso cercare di riammazzarlo Io adesso non so se sia lui Il boss Di cui parlavate Vabbè almeno un po' di danni Gli faccio Dai E non ti muovere Cazzo Si muove ogni volta che Ogni volta che Guarda che roba Che stronzo Bastardo Ogni volta che L'attacco Si muove Stai fermo Pezzo di merda Aiuto Oh però hai rotto il cazzo Hai rotto il cazzo Bene Ok Ok Questo Forse era lui Non era lui Chi lo sa Experimental leather belt Overgrowth Ma sbaglio Ha droppato anche Epico Questo è diverso Questo non è un normale Azzurro Come gli altri Mi sa che Mi sa che questo è più forte Questo è tipo viola Che cos'è questo Questo Questa raita degli oggetti Non la conosco Erroi mio Non ci gioco da marzo 2023 Un portale successivo Che incontrerai Boh Non lo so Abominicale Dicevo Vedete che è diverso Questo è azzurro Cioè tipo questi boots Sono azzurri Questo è viola Quindi In termini di raita È più forte Forse sì Lo metto Si chiamano Exalted Di viola Ok Sì Va bene Più forte Perfetto Sì effettivamente Qui c'è tutta una C'è tutto un network Boh Milcare Non so se ti riferivi a questo Ma Quello Il tizio che ho ammazzato prima Mi sa che Era lui un boss Forse posso andare fin lì Dark sacrifices E vabbè Non c'ho più spazio Quindi Facciamo un bel Solid item Transfer materials E così L'item Ce l'ho Lo spazio Voglio dire Andiamo Andiamo Beh qui finisce Quindi In realtà Credo che l'abbiano cambiato Bomilcale Rispetto a come te lo ricordi tu Perché O comunque Il boss è quello Quello che ho fatto prima Perché qui Qui finisce Sto nella ruina ed ira Qui però è anche Da dove sono spawnato Credo Buonotte Stardust Tra poco stacco anch'io Sì È un po' confuso Questo pezzo Però Vabbè È una specie di rift È un portale Dimensionale Che si è aperto In un'altra dimensione E son tornato Dove ero prima Meglio come faccio Ad arrivare lì Ah no Fermi tutti Fermi tutti Perché secondo me Dovevo uscire Dall'altra parte Del portale Adesso non mi dire Che devo fare Tutti i mob Ok perché vedete Io sono Io sono uscito Da questa parte Del portale Sì i mob Sono respawnati Schippo tutto Ragazzi Ecco Facciamo un salto Fighissima questa cosa Che puoi saltare Lontano Lontanissimo Figata Vai Salta Il più lontano Possibile Ecco Questo era quello Che dovevo fare Fin dall'inizio Se ho capito bene E infatti Siamo arrivati All'enchant cavern Abbiamo sbloccato The precipice E dopo questo Si arriva All'amory Allora Ce la facciamo Ad arrivare All'amory Eh no ragazzi Devo staccare Non ce la facciamo Purtroppo Devo Devo staccare Che ho delle robe Da fare Tra l'altro Devo pubblicare Un articolo Vi posso dire Che abbiamo Una nuova Anteprima Esclusiva A tema Guild Wars 2 Da pubblicare Ecco Abbiamo ricevuto In esclusiva In esclusiva Italiana Abbiamo ricevuto Accesso Al prossimo Update Update di Guild Wars 2 In anteprima Appunto Quindi ringraziamo Enanet E quindi devo andare A pubblicare L'articolo Leather belt Vabbè Torniamo Torniamo a questo punto Dal Alle chambers E così almeno Vendo la roba E la prossima volta Continuiamo ragazzi Magari già domani Eh Se il gioco Comunque vedo che vi piace Vedo che vi interessa Quindi per me lo possiamo Perseguire anche domani Altrimenti domani Facciamo qualcos'altro Fatemi sapere Potremmo anche fare Un just chatting Domani Perché diciamo Che ci sono un po' Di argomenti Interessanti Di cui voglio Parlare E discutere Insieme a voi O se no Appunto Continuiamo la step Fatemi sapere Che cosa Che cosa preferireste Se avete una preferenza Eh Io Transform materials Almeno gli anelli Direi che possiamo venderli Senza timore Doge rating Increase movement Spira Questo me lo tengo Non si sa mai Va bene Adesso do un'occhiata Adesso con calma Do un'occhiata Allora Almeno gli azzurri Li possiamo vendere Dai Almeno Gli azzurri Mi faccio un po' Di gold O al massimo Li riciclo Ecco ma Se volessi riciclando Io ancora non ho capito Come si fa a riciclare un oggetto Invece che a venderlo Bella questa Questa è la mannaia Del macellaio The butcher Tipo Tipo diablo No Diablo Diablo 1 Che c'è il macellaio The butcher Bene Questo lo tengo qui Questo Ecco no Devo vendere anche questo Mannaggiamo Vendiamo anche questo E via Bom Ragazzi Vedo che non avete scritto nulla Quindi a questo punto Tocca a me decidere F per aprire la forgia Poi servono Le rune of shattering Ah ok Quindi il crafting Ok Quindi per Per riciclare Per distruggere gli oggetti Bisogna usare la forgia Grazie Mangiacadaveri Quindi ti promettiamo che io voglio distruggere questo oggetto No per sapere In questo modo però lo potenzio Mi sa Mi sa che in questo modo lo potenzio Se lo voglio riciclare Cioè distruggerlo per ottenere materiali di crafting più potenti Come faccio? Boh Non lo so Lo scopriremo Lo scopriremo ragazzi Che sono le 23 e 48 Niente ragazzi Io devo scappare Quindi direi Torniamo a schermo intero Devo dire il gioco comunque è figo Molto interessante Mi ha gasato il fatto che ho droppato Già stasera ho droppato un po' i leggendari Uno due tre Insomma Molto molto intrigante Da continuare Da continuare Finalmente un bel action RPG Oltre a Diablo Cioè che non sia Diablo Ovviamente Finalmente una valida alternativa a Diablo E Path of Exile Bom Ragazzi Scusate stasera abbiamo fatto uno streaming Leggermente più breve Ma neanche troppo Alla fine abbiamo comunque fatto due ore e venti live Io vi linko in chat La news Con tutti i dettagli Sulla Stipoc Da lì scegli rune o glifi Tutto effetti differenti Le shattering rompono tutto Ah ok Cioè rune O glifi Va bene Adesso me lo studio Mangiacadaveri Ti ringrazio Grazie a tutti ragazzi Per i consigli Per tutte le dritte Ovviamente io sono ancora nabbo Perché sto giocando da poche ore Credo di aver Credo di aver fatto più o meno 10 ore Di la Stipoc Quindi ovviamente ho ancora tanto da imparare E niente Torniamo a schermo intero Dai Eccomi Bom ragazzi Come dicevo Io scappo anche perché devo pubblicare l'articolo Ma tanto ci vediamo già domani Quindi non vi preoccupate Quanto tempo Ci vediamo Ci vediamo Ci rivediamo Già domani sera Per un nuovo streaming A questo punto Voi non mi avete dato preferenze Quindi valuto io In base a come mi sento Se fare un bel just chatting O se continuare la Stipoc Comunque Non mancate Mi raccomando Ci vediamo Già domani Sempre qui Su MMO.it Grazie a tutti ovviamente Per essere stati con me Ragazzi Che dire Sempre Connessi A giornati Massivi Bella Buonanotte 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 Grazie.